L'idea di fare questo laboratorio teatrale con gli ospiti della Caritas nasce qualche anno fa. Abbiamo visto e ci siamo resi conto che quel tempo è sicuramente un'esperienza importante sia per noi, perché rappresenta un evento importante per la Caritas e tutto, per il mondo della Caritas, ma non solo, anche un modo per comunicare anche con la città e far conoscere comunque una realtà diversa, cioè le capacità dei nostri ospiti, le loro enormi potenzialità che vengono fuori durante questa attività, che davvero non è una semplice attività di animazione, ma è un esperimento molto importante per loro, che li mette molto in gioco e può rappresentare per loro, così come rappresenta effettivamente, un momento di grande riscatto nella loro vita. L'idea che comunque loro, sono i loro racconti, quello che dicono loro, andare lì e vivere un momento non tanto di gloria sul palcoscenico, ma davvero di riscatto dopo una vita di distenti, di difficoltà, di disagi, è in qualche modo una gratificazione e una soddisfazione. Io personalmente ho la fortuna di seguire questo laboratorio da qualche anno, devo dire che lo faccio con molto piacere, è sicuramente un lavoro impegnativo, nel senso che c'è una grande macchina dietro e un reale spettacolo teatrale, quindi con tutto ciò le difficoltà che comporta, però davvero poi il risultato finale, quando si capisce che c'è un risultato di grande qualità, insomma chi viene a vedere lo spettacolo avrà modo di capirlo e di vederlo con i propri occhi, insomma ce lo fa fare anche con grande passione.